A colpa mia di chi E funziona Fai un R normale non è quello vecchio Mentre il pompa la sorpresa era il pompa vecchio Ragazzi ne ho viste di tutti i colori In questi anni ma questa cosa non l'avevo Mai vista e probabilmente non è Neanche legale questo ragazzo gioca Con un oggetto usb che aumenta l'automira Ok non è aimbot ma è sempre barare Sicuramente non è legale come cosa Semplicemente è Un oggetto usb che si collega al pc E aumenta l'automira Ma poi regolarlo Non so come funziona Voglio vederlo inserito nel pc Ok fatemi sapere Come si chiama Questo modello qua si chiama Raga fatemi sapere nei commenti Se conoscevate questa cosa fra ma non è legale Cioè come barare aumenti l'automira Come se fosse Appunto è più di una macro secondo me È più barare di una macro ragà Voglio vederlo all'azione Voglio vederlo all'azione Voglio vederlo all'azione E naturalmente un uomo codice creatore Bravi Raga su portatemi Visto che è natale Fatemi un regalo Che non lo festeggerò al natale Quindi c'è un regalo mi serve Cioppate il nuovo pass ragazzi Cioppate il pass Cioppate tutto il negozio Guardate quanta roba Bella c'è Fate come un uomo Cioppate pure i livelli Già il 66 Fai schifo Fai schifo Sì 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 Visto che non funziona il guardo Ma ormai non è una novità Sono passati mesi e mesi E noi andremo a morire Giocherà un uomo Visto che è un pad player Faremo una sfida Pad player normale Cioè normale Con la 104 Contro pad player Con questo trucchetto Cioè come lo chiamo E in bo... Non so come chiamarlo raga Ok ragazzi inizia ufficialmente il video Raga non è una sfida eh Dovete collaborare Voglio una vittoria reale Voglio vedere ragazzo Naturalmente Cioè non si osserverò di meno Perché voglio vedere come mira Cioè ma ce l'hai attivo Cioè così tanto Come la mira con questa cosa Appunto Come mira Come funziona Come va Quindi penso funzionare Con le mitragliette no Questo oggetto Funziona principalmente Con gli assalti E' un po' più Ma è soprattutto Le pompe di questa Sì sono Di questa stagione E' un po' strano Con i dati Diciamo la verità Esatto Cioè è strano su fortnite Cos'è che ho scoperto raga Che quella con il mirino Puoi farci il ghost peak Trampillamente E' miri con il ghost peak Miri con il ghost peak E' rotta Ok Perfetto C'è un team davanti 4 contro 2 Ricordate 4 contro 2 Che spammano 4 contro 2 Che spammano Raga io mi concentrerò Sulla mira eh Non tanto Tu come gioca Tu come build Per adesso niente di speciale Niente di speciale Però comunque La mira si vede Che Non lo so Cioè riesco anche io Cioè riesci anche te Non capisco Ma dov'è fuoco In tutto ciò Non si può buildare Sull'albero ragazzi Eh ma se dobbiamo andare Ma che hanno rotto sotto Hanno rotto sotto Giustamente Non sono Oh ma che sono bravi Se devi spammere Basta fra Non builda Non builda Di fianco agli alberi Non si può fare Ma che gioco di merda E che non builda A fianco agli alberi Raga creative Perché la pubblica Ha già rotto Ha già rotto E' bello giocarla Però quando si è In meno persone Purtroppo Senza il guarda E' veramente complicato Con lo spam che c'è Comunque 3 2 1 Let's go E per le box fight Ho una sorpresa Raga Guidatevi Vai Let's go Vediamolo Cioè io voglio vedere Eh ma sono difficili Perché quando sei In perciò in meno Fra Devi morire per forza Le manichette tremano Eh le manichette tremano Tranquillo Giocatela Ok non sembra male Raga Io non voglio Voglio vedere la mira Fra me di sorprendere Solo che Siete così vicino Diciamo che La mira Oh ma Che lag Ma Che lag No no Solo a voi Perché a me Non è crashato Prima con l'ho 30 Di ping A colpa Mia Di che C'è da dire Però che io Mi ero fermato Va bene va bene Fatto sta Ragazzi è entrato 200 Non mi fida niente È entrato 200 così Quindi raga Sta cosa È veramente Illegale In tutti i sensi Vabbè però È il primo hit Che fa Appunto È il primo hit Che fa Toglio 200 Vediamo Vediamo Scusatemi Andiamo No cosa Non aspetta Non ha cammissato Secondo me ha fatto Ghost hit Fra gli ha sparato Un centimetro Gli ha sparato Un centimetro Non sembra male Comunque Se la può giocare Benissimo 194 194 Gli ha fatto 194 Da quella distanza È rotta sta cosa Voglio vederlo Immagina di avere le hack E perdere Immagina In box fight Che può fare Sì Perché funziona Di più con l'R Come ha detto lui prima Grazie Ma come ogni sorta Di aimbot Tra virgolette Funziona meglio con l'R Perché spara più colpi 139 Per un uomo Però gli ha fatto Un'altra hit Mostruosa raga Sì L'ha lasciato Con pochissimo pito Sì Cioè lui fa un hit Ma fa Tanto Si può potenziare Però Purtroppo Mio fratello Ha la chiavetta Che serve Da collegare Al pc E serve Per giocare Anche altri giochi Warzone O altri Sì brava Ma tu sei un cheater Ok Ma Ok Ugovo io ho fatto 34 Però dirà belle Dirà belle Raga Uriva 200 Poi 194 Poi Ugovo Devi stare attento Perché ricordo Ogni volta che Spara Ti fa tanto male Sto ragazzo Non ho visto Sotto 100 Sotto 100 Non l'ho ancora visti Voglio vedere in box fight Voglio vedere in box fight Ok Va bene Va bene Andiamo in box Andiamo in box Eh va bene Andiamo in box Va bene così Due pari ci sta Non voglio flame Oggi sono tranquillo Non voglio flame Andiamo in box fight E metto la sorpresa Ragazzi Round senza pompa Perché voglio vedere All'azione questa cosa Vai Forza Ci sto Voglio vedere all'azione Se funziona Poi una R normale Non è quello vecchio Mentre il pompa La sorpresa Era il pompa Vecchio No 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 Ma che è che Ugovo Era fermo Però Vabbè Questo Questo non vale Facciamo con il pompa Facciamo con il pompa Con il pompa Ragazzi la sorpresa È il pompa nuovo Un contesto a ferme Fai solo dink Ma solo Sì 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 Raga cioè Poi ha sparato diretto Non è che ha fatto Pim 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 Ha sparato diretto Quando spammi diretto Non lo prendi sempre Ma ehm Ti è entrato troppo facilmente Ti è entrato troppo facilmente Box fight Ti sta distruggendo No ora di nuovo senza pompa Un nuovo Di nuovo senza pompa Raga tanto che per il meme Epsi Do Se decido io Senza pompa raga Voglio vederlo senza pompa Però magari entrate Cioè entrate nei box Non da lontano Ugovo Non è speranza Da lontano Hai visto Prova Prova da dentro Se a lui non serve Mamma mia E però qua Ugovo E qua Ugovo ha attivato Ugovo lo ha spaccato Vedete però il movimento Il movimento è diversa La situazione Sì capito Fortuna Capito Eh non lo sento Perché l'ha mutato E faceva ego Comunque riproviamo Riproviamo Anzi fate un round normale Fate un round Vai Ugovo Vai Ugovo Voglio un pareggio Come back di Ugovo Come back di Ugovo La cosa che mi fa strano E forse gli fa onore Cioè onore il cazzo Perché lo usa Però ragazzi Sì onore fra Che non spamma troppo lui Cioè spamma più Ugovo Faccio un esempio Quando gioca Prima Oh ragazzi Nelle build Giocava di pompa Ok bello Ugovo Bello Bello Ti strutturavo Come c'è la lane bot Ragazzi Un pagliaccio Un pagliaccio Ragazzi Un pareggio anche qua Un pareggio anche Ragazzi Chi osserviamo a lane bot Ma come funziona Ma ci caso In realtà Sarebbe due pari Perché quello Mentre eravamo fermi Era per testare la mira E ho detto Vabbè Ne avete fatti due Vabbè Ma scialla Ma intanto Eh faccia Madonna Deve mettere sempre Il puntino Il puntino Sulla isto ragazzi Sono rincoglionito Ma che ragazzo Una spamma Ha deciso di spammare Ha deciso di spammare Lo deve ricaricare Ragazzi vi ricordate L'hacker che vi portavo E neanche dovevano ricaricare Quindi sparavano diretti Attraversavano le strutture Pure col cecchino Quello era tosto Ah cacchia mi sta Tu cocco Non dovevi mi stare qua Questa era una bella hit Secondo me Ragazzi Bella sfida Bella sfida Bello L'ha sparato Raga Finiamola Con una bella Zone Wars Qua si potrebbe spammare In Zone Wars Si potrebbe spammare Stavo dicendo In questo momento Io Non ho Tutto il necessario Più utile Ma tra qualche giorno Dovrebbe arrivare Mio fratello Dall'Italia Ok Lui è una pennetta Fatta apposta Che Stava parlando Va bene Serve Per potenziare Questo oggetto Ci sono quattro livelli Io in questo momento Sono sul livello numero uno Ok Ok Poi diventa Il Ragazzi non ci stocca più cazzo Ti giuro Sono sincero Non la conosco la cosa Quindi di conseguenza Nella mia testa Faccio che cacchio E' una cosa che si migliora Con la pennetta Strana Non sapevo l'esistenza Fatemi sapere nei commenti Raga È un hack portatile È un hack esterna Sembrerebbe Sì Un hack esterna Raga non lo usate a casa Faccio come Zano Non scioppate Non so se ti stai rendendo conto Ma stai in safe Sì vabbè Probabilmente morirà di safe Sì sì Guardate Ok 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 Sì però 116 Bello Può farcela Può farcela Ma Allora Ho avuto fortuna E ho fatto 46 Allora Ragazzi qua si sta ribaltando Non ci sto capendo un cazzo Chi ce l'ha Topi Allora se tu entri No Dici uno dei due C'ha l'hack Chi pensi che le ha Ugovo Sai che gli fa sempre Ma che sta succedendo Allora che sta prendendo in giro Ma Lui voleva passare sopra Bro ma ti ho bombato Certo Vabbè Raga Mille like Per vedere l'oggetto E vedere l'embeca Forza